Sabato scorso per la città di San Severo è stata una giornata davvero particolare. Difatti sono stati festeggiati due centenari alla presenza del sindaco Francesco Miglio. Si tratta di Michele Italo Lombardi e di Eva Carmela Barbatelli. Ai nonnini arrivano gli auguri da parte di tutta la città. Nella mattinata di sabato 14 gennaio, circondato dall'affetto di figli Giuseppina e Luigi e nipoti Francesca e Rosa, e di tanti altri parenti ed amici di famiglia, nella sua casa si è tenuto il momento conviviale per festeggiare i cent'anni di nonno Michele Italo Lombardi, per decenni agricoltore nella vita lavorativa e marito, padre e nonno esemplare, come hanno tenuto a puntualizzare in famiglia. Il sindaco Miglio si è soffermato a lungo con nonno Michele, felice e contento di tanto affetto e della visita del primo cittadino, che poi nel pomeriggio ha reso omaggio a nonna Eva Carmela Barbatelli, pure lei neocentenaria. La signora Eva, per anni madre nonna premurosa, casalinga, ha trascorso un pomeriggio di festeggiamenti in compagnia di figli, nipoti e tanti altri familiari. Anche a lei il sindaco ha consegnato un fascio di fiori ed una pergamena ricordo a nome della Municipalità Sanseverese. Grazie